bella a tutti i ragazzi e bentornati nel mio canale visto l'enorme richiesta di informazioni riguardo alla trasformazione di armi da ossidiana scaglia buia ho deciso di portare un nuovo video in cui lo spiego dettagliamente in cui spiego con maggiori informazioni come fare almeno per i più inesperti potrete consultare questa guida qualora vi servisse visto che evolvendo le armi da livello 82 al livello successivo perciò ossidiano scaglia buia magari evolvendole veloce questo è il risultato oggi vi propongo un nuovo tutorial allora eccoci qua prima cosa raga andiamo sul sito ufficiale di fortnite su epic games facciamo il login con il nostro account e scorriamo tutta la pagina fino in basso e nella sezione aiuto è quella che interessa a noi quindi ci clicchiamo sopra direttamente dopo aver inserito tutte le nostre credenziali procediamo con inserire la nostra piattaforma inseriamo la segnalazione di bug e ho preparato già per voi una frase in inglese perché ricordiamo che scrivergli in inglese faciliterà il loro compito quindi lascerò nei commenti questa frase voi dovrete far altro che copiarla incollarla a posto di insert web inserire inserirete il nome della vostra arma in questo caso io vado ad inserire il links procediamo col captcha vediamo l'invio quindi raga immediatamente riceverete una risposta del genere non vi preoccupate perché sarà una risposta automatica dei loro computer dopo di che vi arriverà un email che vi confermerà appunto la conferma dell'avvenuta conversione adesso io vi sto mostrando appunto un email molto molto vecchia avendolo appena mandato il ticket per la nuova arma però questo appunto un ticket che vi fa vedere la risposta di quando vi effettuano la conversione niente di più eccezionale semplicissimo raga basta seguire i passaggi punto per punto e non avrete alcun problema allora raga ricordiamo che evolvere le armi in ossidiana non è assolutamente sbagliato anzi ci sono armi che forse è meglio evolvere proprio in ossidiana come le armi da mischia come vabbè i lanciatori vanno di per sé in ossidiana quindi non c'è neanche da chiederselo ma anche alcuni aere forse proprio meglio evolverli in ossidiana detto questo io spero che il video sia stato abbastanza chiaro qualora non lo fosse mi invito a scrivere nei commenti cercherò di rispondere quasi a tutti raga e ricordo che anche lascio il link del del supporto di fortnite in descrizione nel primo commento aggiungerà invece la domanda formulata già in inglese ricordo solo che dovrete inserire tra tra le due virgolette il nome appunto dell'arma quepic games negli ultimi giorni ha annunciato che aggiungeranno nelle prossime patch dei provvedimenti per questa selezione in modo che avremo credo tipo una conferma quando andremo a evolvere l'arma ma comunque dalla patch 1.7 raga che c'è questo problema siamo ancora siamo avantissimo con le patch adesso non mi ricordo ma sono passati parecchi mesi in cui dicono che questo bug doveva essere risolto ma ancora non è risolto per il momento ci affidiamo al loro supporto grazie di aver guardato il video raga vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto e ci vediamo in un prossimo video bello a tutti ciao 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 ciao